Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo vlog Ragazzi vi volevo dire solo una cosa Che io in questo video, in questo vlog Verrà messa anche il mio intro Non lo so se voi volete anche una o un tro Non lo so, spero di si Perché oggi ho creato una, spero di si E io non credo solo ai miei amici la intro Non a voi perché se ne ho troppo lavoro Già tanto che i miei aggiano i ricoletti e il dragone E a TheGamets A TheGamets l'ho fatta Però a tutti voi no Un po' a 700 persone Mi dispiace, beh Alcuna di voi la farò ma alcune, non tutte Quindi ragazzi i vlog sono per dirvi questo Se poche persone mi dicono Beh, due mi dicono Mi può fare la intro Beh, dipende che nome volete Dipende, dipende che nome volete Se io per caso mi metto un nome Se io per caso che non la Non la Pubblico Perché non ne posso Quindi ragazzi E niente Questo vlog era tutto Ciao